Numero quinto! Mi piace perché sei tutta a memoria, mi piace questa promozione. Giuliano ti porta Eliana Rose! La fermerò mai più, nessun ostacolo per me, per te. Ora in poi troverò la mia vera identità e vivrò, sì, vivrò, per sempre in libertà. Se è qui, il posto mio, io lo scoprirò. Il mio potere si diffonde intorno a me. Il piaccio aumenta e copre ogni cosa accanto a sé. Il mio pensiero cristallizza l'aria a te. Il resto è storia ormai che passa e se ne va. Io lo so, sì lo so, come il sole la ponderò. Perché poi, perché poi all'alto sorgerò. Ecco qua la tempesta che non si fermerà. A oggi il destino appartiene a me. Adesso, posso chiederti il piacere? Puoi fare, sei troppo freddo fuori. Puoi commettere di fare così? Mi piace ovunque, basta! Abbiamo il caldo! Cioè, rifassiamo i complimenti. Uno, perché io se faccio anche solo così mi gira la testa e vomito. Lei non si è ammazzata con tutto. Lei non si è ammazzata con tutto.